Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei libri che mi hanno conquistata nel 2021. Non sono tutti libri usciti nell'anno 2021, però sono quelli che io ho letto durante quest'ultimo anno e che appunto ho apprezzato parecchio. Non si tratta di una classifica e chiaramente queste letture rispecchiano il mio gusto personale, quindi è decisamente una lista soggettiva. Prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. In più, nella descrizione trovate tutti i vari link da affiliata più la pagina coffee attraverso cui potete offrirmi una simbolica tazza di tè. Vi ringrazio davvero di cuore. Partiamo con uno dei primi libri letti durante l'anno, ovvero Non dimenticare i fiori di Kawamura Genki, autore che sicuramente avrete già sentito nominare su questi schermi, perché ha scritto anche Se i gatti scomparissero dal mondo, libro che io ho amato un po' di anni fa, per cui ero felicissima di poter leggere una sua nuova storia e devo dire che non sono stata minimamente delusa. Qui ci troviamo di fronte ad un uomo che sta per diventare per la prima volta padre, quindi è un mix di emozioni anche molto contrastanti, nello stesso periodo scopre che la madre ha l'Alzheimer. È una storia che parla di vita vera, quotidiana, vissuta, concentrandosi in particolare sul filo sottile vita e morte, passando chiaramente anche per la malattia. È una cosa che mi ha colpito fin da subito di questo autore che è in grado di parlare anche di quei temi molto delicati e spinosi con una facilità e sincerità disarmanti. Infatti nel momento in cui quest'uomo nota che la madre inizia a lasciare ad esempio il gas aperto, esce di casa e non ritrova la via del ritorno, si infastidisce. Cioè lui non prova magari un po' di comprensione nei confronti di sua madre, ma anzi quasi si vergogna, vede proprio come un disturbo anche nei confronti degli altri, perché appunto pian piano diventa sempre meno indipendente. Ed è una cosa secondo me molto scomoda da dire, perché può sembrare quasi crudele, però quante persone magari nella stessa situazione potrebbero reagire allo stesso modo? È una cosa che nessuno ammetterebbe mai. Ovviamente non ci sono soltanto quei lati, diciamo, negativi. Si parla anche di amore sotto vari punti di vista, l'amore per il proprio partner, l'amore per un figlio e anche quel difficile e complicato rapporto appunto fra i genitori e i figli. Una storia per certi versi dolorosa, sicuramente commovente, uno di quei classici libri da piantino, che però secondo me vale la pena leggere. Con Bodhi, Il mio corpo è la mia casa di Rupi Kaur è una raccolta di poesie che mi ha particolarmente convinta durante quest'anno, probabilmente perché l'ho letto anche nel momento giusto. È uscito, se non sbaglio, a marzo, e in un momento ancora di difficoltà piuttosto evidente, e l'autrice è riuscita a darmi un po' di conforto. Oltre ad alcuni temi che abbiamo già ritrovato in altre sue poesie, come l'amore verso se stessi, le relazioni, anche quelle tossiche, il difficile rapporto con i genitori, ma anche il ritrovarsi in un nuovo paese ed affrontare una serie di difficoltà. Il proprio punto chiave, secondo me, delle sue poesie è che c'è sempre un momento di difficoltà che va vissuto per poi poter passare, diciamo, a un capitolo successivo, per rafforzarsi, per andare avanti, e, tra virgolette, ricominciare. C'è sempre un po' questo percorso nei suoi vari libri e in questo in particolare ci si sofferma anche su dei temi che io ho sentito particolarmente vicini, probabilmente per il periodo storico particolare che stiamo vivendo. Parla, infatti, anche di solitudine e, ad esempio, di produttività. Di quanto noi ci sentiamo magari un numero o in dovere di fare per dimostrare, non si sa bene che cose, non si sa bene a chi, però penso che nel momento in cui ci siamo ritrovati tutti a casa in seria difficoltà abbiamo cercato da una parte degli stimoli per riempire alcuni vuoti, alcuni silenzi, ma questo non sempre, a parer mio, ha portato a qualcosa di effettivamente buono e costruttivo. La continua pressione che comunque abbiamo da parte degli altri, della società, ma anche nei confronti di noi stessi, di fare, 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 non ci porta sempre a una effettiva salute. E quindi, non so, io ho trovato particolarmente interessante e attuale questo frangente, insomma, nel suo libro e, come vi dicevo, anche altre poesie, nonostante le utilizzi un linguaggio molto semplice, molto diretto e, a volte, delle, tra virgolette, frasi fatte, secondo me riesce ad arrivare al punto e a conquistare una fetta di pubblico piuttosto ampia proprio perché tratta dei temi in cui tante persone possono rivedersi. Utilizza proprio quel linguaggio universale che riguarda l'essere umano. Un po' sulla stessa scia è Parole di conforto di Matt Haig. Di nuovo una raccolta, in questo caso, di pensieri dell'autore, a volte sono vere e proprie pagine che riflettono un po' il suo pensiero, la sua esperienza personale, dati statistici, episodi, diciamo, della vita. In altri frangenti ci possono essere delle citazioni, delle liste, delle piccole frasi. Come suggerisce il titolo del libro, Parole di conforto, tutto ha il fine, lo scopo di confortare, di non far sentire soli e magari far vedere le cose, diciamo, sotto un punto di vista diverso. Anche in questo caso il linguaggio utilizzato è veramente molto semplice e spesso si parte da delle frasi fatte, dei luoghi comuni. Però, devo essere sincera, se letto, nel momento del bisogno, quando si è un po' giù di morale, si sta avendo una brutta giornata, ci si sente tristi o amareggiati, anche senza un vero e proprio motivo, sentire una parola di conforto, che potrebbe venirci banalmente da un amico, da un familiare, da un compagno, risolleva un po' il morale, perché da una parte ti può far sentire coccolato, ti può far sentire meglio, non solo capito e accettato, anche quando non si sta bene, anche quando si è tristi o si è apatici. Mettieghi è un autore che io apprezzo molto, soprattutto nella parte, diciamo, non fiction, perché ha una storia, secondo me, molto interessante, non solo dal punto di vista di qualcuno, tra mille virgolette, che ce l'ha fatta, perché siamo sempre in crescita, in divenire, e non voglio idealizzare comunque una persona, però è appunto qualcuno che ha vissuto determinate sensazioni, emozioni e difficoltà, non si è arreso ad essi, ma ha imparato ad accettarsi, anche nei momenti di fragilità, ha chiesto aiuto, ha intrapreso un percorso di terapia, e condivide la sua esperienza, appunto, non per dare quell'impressione del, se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi, che molto spesso si ritrova nei libri, diciamo, di self-help, ma, appunto, lo prendo un po' come uno zio, che cerca di farti capire, che non sei sbagliato, che non c'è nulla di male in te, che anche se attorno a te hai delle persone, che magari ti fanno pesare, il come ti senti, il come sei, beh, non è così per tutti, e non è così che ti dovresti sentire, questo è esattamente quello che il titolo promette, parole di conforto. Credo il libro migliore letto con il Cibibu Club del 2021, Le ricette della signora Tokue, di Durian Sukegawa, probabilmente rimanevo soltanto io a dover leggere questo libro, fatto sta che mi ha sorpresa moltissimo, e tanto tanto in positivo, la storia parte in maniera molto tranquilla e quotidiana, seguiamo un uomo che fa il pasticcere, non per vocazione o passione, ma perché deve ripagare un debito, e un giorno decide di assumere una nuova persona per farsi aiutare, e incontra appunto la signora Tokue, che nonostante l'età e nonostante una sorta di difetto alle mani, che non la rende particolarmente attraente nel contatto con il pubblico, diciamo così, quindi deve stare un po' nelle retrovie, non può direttamente vendere lei nella pasticceria, ha tantissima passione riguardo a questo mestiere, e la sua esperienza e voglia di vivere, rifaranno un po' ritrovare il senso della vita del nostro protagonista, che si trova appunto a vivere giorno dopo giorno, soltanto in maniera diciamo meccanica, senza un vero scopo, senza una vera passione, e quindi inizialmente ci si focalizza anche sui passaggi proprio tecnici, della preparazione in particolare di Dorayaki, che sono una sorta diciamo di pancake ripieni di una composta di fagioli rossi, gli azuki. È molto giapponese in questo l'autore, nel descrivere i vari passaggi, le piccole cose, io sono estremamente affascinata da questo aspetto della cultura giapponese, proprio della cura e del rispetto di ogni cosa, ma anche della preparazione, della quasi cerimonia del fare. Man mano che si va avanti la storia diventa più seria, diciamo così, non voglio anticipare, per me è stata una bellissima sorpresa. Si va a toccare un aspetto che riguarda di nuovo la vita prima o poi di ogni persona, ma anche un aspetto forse poco trattato quando si parla del Giappone, ma anche in generale. Vi capisco, è difficile parlare di qualcosa senza parlare di qualcosa, ma fidatevi. È un libro tenero, ma è anche una storia molto commovente, devo dire. Sono rimasta molto colpita anche da Galatea di Madeleine Miller, un racconto illustrato da Ambra Garlaschelli. In questo caso l'autrice torna dopo la canzone di Achille Circe a prendere un episodio che riguarda il mito. In particolare la figura di Galatea, una statua che è stata resa umana, donna in carne e ossa, per assecondare il desiderio del suo creatore, Pigmalione. È breve, ma veramente forte ed efficace. Lo si legge tranquillamente in un quarto d'ora, venti minuti, però devo dire che lascia il segno, perché affronta un tema abbastanza quotidiano di nuovo purtroppo, ovvero la violenza che subiscono le donne dal punto di vista fisico, psicologico. Qui ci troviamo di fronte a una donna che è nata esclusivamente per piacere ad un uomo, è usata continuamente, non viene presa in considerazione da nessun punto di vista umano. E la storia è raccontata proprio dal suo punto di vista. Possiamo percepire l'insofferenza, quasi l'estraniarsi dal proprio corpo, cercare di aggrapparsi ad altro, ai pensieri, diciamo, positivi, a quello che rimane della vita. La difficoltà a volte anche nel rivedersi oltre il ruolo di amante, compagna, madre, eccetera. Io almeno l'ho interpretato in questo modo e per questo ne sono rimasta molto colpita. E non dico scossa, però è abbastanza forte, nonostante il linguaggio rimanga sempre molto elegante, molto fine. E anche nelle cose non dette, la mente ovviamente vola, è in grado di immaginare, di collegare magari i punti e anche quello che non viene raccontato, ma che ci immaginiamo comunque, fa male, ma fa anche riflettere. Il suo nome era Gilbert, di Keiko Takemija, e l'autobiografia di questa autrice che io sto imparando a conoscere proprio in questi giorni, grazie ad una delle sue opere più famose che dà anche il titolo a questo libro, ovvero il poema del vento e degli alberi, uno dei protagonisti è appunto Gilbert, il biondino che vedete in copertina. Sono rimasta molto affascinata da questo libro perché non mi è capitato spesso di leggere delle esperienze così dirette di autrici di fumetti giapponesi. Ed è molto interessante per svariati motivi, quello principale secondo me riguarda proprio la figura del mangaka, donna, in un contesto come quello giapponese, se non sbaglio, fra gli anni 70-80. Questa autrice, assieme a un gruppo di altre donne, hanno completamente rivoluzionato il fumetto per ragazze, quindi è estremamente interessante vedere il processo che l'ha portata ad essere l'autrice che conosciamo oggi, le difficoltà che ha riscontrato, le varie dinamiche, come funzionano, il rapporto fra autore, editor, rivista, gli studi che ci sono dietro, le varie opere, il rapporto con i colleghi e le colleghe, l'aria che si respirava in quel periodo, se effettivamente il lavoro di fumettista era già considerato come lo è oggi, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista, secondo me, è veramente una chicca, perché non credo ci siano tante esperienze così dirette. Poi, come vi dicevo, questa autrice comunque ha cambiato tante cose nel mondo del fumetto per ragazze, che fino a poco tempo prima era di dominio, diciamo, maschile, e quindi i fumetti che le ragazze, le donne leggevano erano quasi tutti scritti da uomini, quindi potete capire bene che la rappresentazione femminile era molto limitata e spesso legata a un certo stereotipo che iniziava a star molto stretto. Inoltre, iniziano ad essere introdotte anche delle storie, ad esempio i Boys Love, per come li conosciamo noi oggi, che inizialmente avevano un po' scosso, scosso, il pubblico era, tra virgolette, una novità, si doveva ben capire come gestire il tutto, come sarebbe stato percepito dal pubblico. Potrei parlarne ancora, però ci sono tanti aspetti che mi hanno interessata molto, al di là della vita, diciamo, personale dell'autrice che emerge fino a un certo punto, ma proprio il suo percorso a livello professionale è, secondo me, molto affascinante. E volevo leggere da tempo il poema delle vente degli alberi, ma dopo questo ho sentito proprio l'impellenza, quindi sono molto contenta che poi mi siano stati regalati i primi due volumi del fuetto per questo Natale. Ah, tra l'altro ne approfitto per dirvi che in questo video appunto vi parlerò soltanto dei libri perché dei fumetti migliori del 2021 ve ne ho già parlato, vi lascio il video nelle schede qua sotto in descrizione nel caso ve lo foste perso. Andiamo avanti con un altro libro che probabilmente non avevo letto soltanto io, ovvero La Porta di Mog Dosobo, un'autrice ungherese molto amata e particolarmente famosa qua in Italia con questo. La Porta che a me spaventava proprio perché era un libro che veniva consigliato tantissimo di questa autrice e quindi temevo che non mi potesse piacere. Mannaggia a me, perché invece l'ho adorato, è stato in assoluto uno dei più belli letti quest'anno. Tra l'altro c'è anche dietro una storia un po' particolare perché io l'ho iniziato a leggere mentre ero a Budapest per il mio viaggio del primo anniversario di matrimonio. Io tra l'altro mi sono sposata a Budapest, quindi un mix di emozioni fortissime. Io ho origini ungheresi perché non lo sapesse, quindi ho un certo legame con la letteratura ungherese. In più, Mog Dosobo era una delle autrici preferite di mia nonna, quindi tanta pressione, ma anche tanta emozione, devo dire. Qui si parla di un rapporto molto complesso e complicato fra due donne. La padrona di casa, mettiamola così, una scrittrice in cui possiamo forse rivedere qualcosa dell'autrice e la domestica, la signora che viene in casa della padrona, tra virgolette, per sistemare, pupire, cucinare, eccetera, eccetera. Quindi due donne molto diverse, hanno anche età differenti, potrebbero essere quasi madre e figlia per intenderci, con anche due modi di fare profondamente differenti. In questo loro rapporto, però, di lavoro che molto spesso si spinge ben oltre, devono imparare a conoscersi, a capirsi e in certi casi proprio anche a sopportarsi. La vita, inoltre, della domestica è molto misteriosa perché questa donna è eccentrica, ha i suoi ritmi, le sue regole, che impone un po' anche agli altri ed è molto riservata. Non fa mai entrare nessuno in casa, quindi c'è anche questa sorta di mistero. Ho amato profondamente questo libro proprio per questo rapporto che cresce e si evolve con il tempo e durante gli anni. L'autrice esplora l'animo umano in maniera molto profonda e in aspetti positivi ma anche, diciamo, negativi, cupi o in quegli aspetti un po' scomodi che non vorremmo mai ammettere con noi stessi, figuriamoci, far scoprire agli altri. La profondità mi ha veramente disarmata, devo dire. Ci troviamo poi in una Budapest abbastanza lontana da quella che è oggi, degli anni Ottanta, però è abbastanza curioso vedere un po' come erano le dinamiche, la politica, tra virgolette, gli usi e costumi, soprattutto per me per vedere se c'è qualcosa che mi è stato, diciamo, tramandato, che si fa così anche oggi oppure che cosa c'è di diverso, insomma, è stato interessante anche da questo punto di vista. Se ancora non avete scoperto questa autrice ungherese, questo prendetelo, leggetelo, fidatevi. Un altro libro che mi terrorizzava un po' e che non è uscito quest'anno, ma è uscita una nuova edizione appunto quest'estate, è Il Circo della Notte di Erin Morgenstern. Io di suo avevo già letto Il Mare Senza Stelle che non mi aveva convinta al 100%, quindi era un po' timorosa. In realtà mi è piaciuto tanto questo fantasy, devo dire. È un volume unico che ha al centro sia il circo che la magia. In particolare un duello fra due persone che nemmeno si conoscono, che non sanno in che modo dovranno affrontarsi, ma sanno fin dalla tenerissima età che appunto dovranno confrontarsi e per questo passano alla loro esistenza a cercare di migliorarsi dal punto di vista magico appunto della performance. Perché si parla molto di spettacolo, di scena e come vi dicevo poi il palcoscenico è appunto rappresentato da un circo. c'è inoltre una sottile linea fra magia diciamo vera e propria ed illusione che ho trovato molto affascinante fin dall'inizio. C'è questa atmosfera di non so se è successo veramente o se è un'illusione, se è realtà o finzione. Intrigante. C'è da dire che come nel mare senza stelle ho trovato l'autrice un po' troppo prolisse in alcuni punti. secondo me si poteva stringere un po', ecco, per quelli che sono i miei gusti chiaramente. In alcuni momenti ho sentito un po' una narrazione piatta, secondo me si potevano saltare alcune cose ma riconosco che dal punto di vista stilistico sia molto ricercato, molto sopraffino quindi è tutto elaborato in un certo modo come richiede forse anche l'ambientazione della storia stessa. Non so se mi sono spiegata bene però ho avuto questa impressione c'è veramente molta ricercatezza ecco. Un paio di cose mi hanno fatto storcere il naso soprattutto legate al confronto fra i due protagonisti però nel complesso è stata una storia che come non succedeva da tempo mi ha tenuta incollata alle pagine mi ha fatto arrivare anche a notte fonda leggere, leggere, leggere l'ho divorato ero veramente troppo curiosa di andare avanti nonostante ci fossero dei momenti secondo me un po' morti questo libro è stato una coccola è stato veramente una coccola Spiriti e creature del Giappone di Lafcadio Earn e Benjamin Lacombe è una raccolta di racconti di appunto Lafcadio Earn illustrati da Benjamin Lacombe è un'edizione illustrata meravigliosa ma non penso di dovervelo dire io penso che abbiate già visto da qualche parte insomma questo libro o storie di fantasmi del Giappone che è un'altra edizione fatta allo stesso modo con racconti diversi e le illustrazioni sempre di Benjamin Lacombe è un ottimo libro secondo me se state cercando qualcosa legato al Giappone diciamo tradizionale mitologico io mi son letta un racconto per sera come se fosse diciamo la favola della buonanotte e l'ho trovata la scelta vincente perché andavo a letto veramente con questo pensiero felice tra virgolette coccoloso nonostante in alcuni casi i racconti si focalizzano appunto su delle creature demoni spiriti non sempre benigni ecco una cosa che mi affascina tantissimo di questi racconti è che nonostante siano fantastici si aggrappano comunque a delle cose reali che possono riguardare la tradizione la cultura il sentito dire spesso ci sono delle figure ricorrenti o delle dinamiche che diciamo si ripetono e in quello si può leggere che cosa è importante o perché si dia peso a certi eventi a certe usanze a certi posti a certi animali e così via riflettono per certi versi anche una sorta di filosofia di vita e io sto approfondendo poi leggendo anche fiabe giapponesi sono totalmente rapita da questo da questo aspetto perché il folklore nasconde comunque tante cose anche della nostra vita quotidiana quindi lo trovo particolarmente affascinante ultimo non certo per importanza Heaven di Mieko Kawakami autrice di Senio Uova ebbene si è tornata in libreria con una storia pungente una storia di amicizia e bullismo che vede per protagonisti due giovani ragazzi lui strabico che viene continuamente vessato a scuola lei invece è una ragazza che trascura un po' il suo aspetto fisico e per questo viene presa di mira dalle compagne di classe sono gli emarginati gli esclusi quelli che ogni giorno devono subire non soltanto cattiverie ma anche delle violenze e forse in questa loro condizione di esclusi si avvicinano iniziano a frequentarsi a parlarsi fuori dalla scuola ma non parlano mai di quello che devono affrontare giorno dopo giorno in classe è una storia molto cruda molto diretta in certi frangenti anche violenta devo dire è una storia però che fa riflettere che quindi io ritengo necessaria non mi stancherò mai di leggere storie riguardanti il bullismo e in questo caso è interessante vedere un po' anche la l'assenza diciamo degli adulti vedere come cercano di cavarsela questi giovani che rapporto hanno con l'autorità con la sfera appunto adulta come cercano di difendersi i loro meccanismi per andare avanti per superare una difficoltà il loro rapporto poi con il loro corpo la loro persona una cosa secondo me molto curiosa è che nonostante la storia sia ambientata a scuola periodo medio se non sbaglio ci sono delle dinamiche degli eventi che ci portiamo avanti in realtà per tutta la vita delle cose che non succedono soltanto a scuola ma che si possono ripresentare ad esempio anche sul posto di lavoro ed è curioso ma non sempre in maniera secondo me positiva quindi questo denota quanto ancora ci sia tanto da fare nel sensibilizzare le persone nell'essere più tolleranti empatici più umani gli uni verso gli altri un libro a mio modestissimo parere assolutamente da leggere indipendentemente dallo sfondo giapponese perché quello che accade che viene raccontato in alcuni frangenti forse può essere proprio tipico e caratteristico della società giapponese ma è una situazione che riguarda veramente tutti mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono stati i vostri libri preferiti dell'anno e se avete letto qualche titolo che vi ho citato in questo video spero di cuore di avervi tenuto un po' di compagnia noi ci vediamo alla prossima ciao